Si gioca per la semifinale dell'Europa League, basta dire solo quello, credo che con questo nel pensiero tutti noi avremo le giuste motivazioni per andare in campo e cercare quel risultato che ci serve per andare avanti, perché stiamo parlando di un torneo molto prestigioso, un torneo che possiamo andare ancora più avanti, quindi io ho piena fiducia nei ragazzi, perché siamo una squadra con tanta esperienza e siamo capaci di andare in campo giovedì e tirare fuori questo risultato che serve.